amici bentornati a questo nuovo video allora qui un sacco di cose principali da dire allora il primo è intanto buon anno perché questa è la prima registrazione veramente dell'anno nuovo quello che avete visto e per molti ci siamo conosciuti nello scorso video del iso automatici invece era stato pre registrato nei giorni di natale e poi avevo iniziato a fare la prima prova di programmazione cioè andati in onda in automatico programmandolo orario e giorno da youtube ero ad arezzo quindi ho fatto qualche giorno fuori un po per lavoro un po per grande piacere una volta che vai a rezzo a chi piace l'arte è sicuramente una città bellissima da vedere come al solito abbiamo preso un appartamento siamo stati in giro qualche giorno ed onestamente ne valsa la pena come sempre anche se per me sempre affaticato con lo zaino c'era comunque arezzo non è nella pianura padana e quindi non essendo la per una padana immaginerete da soli che una città con le mura di cinta rinascimentale medievale non è totalmente in pianura quindi un po ho faticato però solo piazza grande merita tutto quanto allora il video di apertura prima di parlare della del video che poi è questo il video che vorrebbe coinvolgervi e da questo vedere anche chi ha il coraggio insieme a me di buttarsi in visione ma adesso vi spiegherò per gradi voglio ringraziare sicuramente l'algoritmo di youtube io sono venerdì scorso sono andato ad arezzo il video è partito da solo e essendo tutto il giorno in viaggio in movimento ho fatto un sacco di cose non avevo il wifi quando sono riuscito ad avere il wifi mi sono accorto che in pochi giorni si stava accumulando una serie di realizzazioni tantissime con tantissimi like tantissimi momenti che pian piano sto cercando di rispondere a tutti abbiamo capito che l'algoritmo gli ha gradito gli iso automatici e ha fatto mi ha fatto fare un salto in avanti inaspettato e velocissimo quindi devo ringraziare tutti voi che avete creduto ha detto ma e avete pensato per un attimo ma sì ma metto click mi scrivo da sto vecchio rincoglionito allora questo quindi diventa il primo video del 2023 spero sia interessante e anche questa volta è un video un po riflessivo ho visto che quando uno si ferma un attimo a riflettere coinvolge i colleghi gli amici le persone che hanno la stessa passione secondo me si tira fuori delle cose interessanti allora nella vacanza anche un po di lavoro c'erano dei contatti di lavoro ma è stato poi tre o quattro giorni di rilassamento mi era venuto in mente insieme qualche giorno prima parlando col mio amico emiliano che c'è sempre un posto magico dove poter ritirarsi e riconciliarsi con la fotografia da questa frase con cui parlavamo emiliano in questi giorni ho riflettuto sul fatto che quante volte abbiamo incamerato delle immagini o quante volte delle sensazioni stupende non avevamo per fare foto per fare video quindi l'abbiamo solo immagazzinata nella memoria e quindi una parte nel tempo sono state elaborate magari qualcuna sbiadita qualcuna ti passa di mente qualcuna ricordi ancora i profumi insomma esistono delle sensazioni che la fotografia è regina nel fermare voglio coinvolgere anche il video perché anche il video da questa bella sensazione almeno per me nacque come prima passione negli anni 80 quindi per me parlare solo di fotografia è sempre un pizzico di limite soprattutto quando non lavoro è bello che adesso ci sono mezzi per fare tutte e due e quindi io sono andato un po' ritroso e ho detto ognuno di noi ha qualche bel posto dove rifugiarsi e magari andarci a scattare due ore di fotografia e riconciliarsi sia con la fotografia ma anche con se stesso e questa cosa mi ha fatto venire in mente l'idea di poter fare un piccolo format che secondo me potrebbe essere carino dove ognuno di voi almeno a chi va nessuno è obbligato che sia chiaro può mandarmi e dopo vi faccio vedere come per chi non è pratico attraverso un email e un piccolo softwareino gratuito che sta sul web mi può mandare magari un pezzetto di film due tre minuti di video con qualche foto del proprio posto del cuore un posto dove quando la giornata va male o quando tutto gira storto uno prende la propria macchina fotografica e va lì per rilassarsi e tirar fuori il meglio di sé dal punto di vista creativo e soprattutto anche secondo me di un po' di solitudine la solitudine fa riflettere quindi questa è una cosa secondo me molto bella ci sono dei posti magici ci sono anche delle persone magiche per esempio e così stavo ricordando per esempio nella mia vita senza essere prolisso e lungo che sia chiaro poi vi spiego come mi piacerebbe che voi mi mandaste il vostro materiale così io farei un montaggio presentando i nostri cari iscritti di tanto in tanto due tre persone che ci fanno vedere i luoghi dove loro stanno bene in fotografia o si appagano girando un video questo mi ha fatto tornare indietro ovviamente degli anni soprattutto degli anni che come dicevo io sono riuscito a registrare a portare via dalla realtà un ricordo ben materiale quindi all'inizio facevo solo video quindi non ho grandi foto da ragazzo poi man mano aumentano le foto e poi aumenta anche il video e così mentre parlo vorrei montarvi sopra le immagini per farvi capire i punti e le cose che poi nella vita ti colpiscono e tu cerchi di carpirle e portarle via sì la fotografia e il video sono comunicazione sì possono essere lavoro sì sono comunque sensazioni e quindi un grande amante delle immagini sia fisse che il movimento è sicuramente un appassionato di registrare e anche utilizzarle come propri ricordi questa parte e questo video vorrei dedicarle proprio come inizio dell'anno il relax alle sensazioni che non hanno prezzo è in realtà almeno per me cioè io tutto l'anno faccio il fotografo ma se vado in una città che a me piace e vado a vedere come nel caso la scorsa settimana piero della francesca che avevo studiato da ragazzo in storia dell'arte del primo diploma e portai una tesi all'istituto di cinematografia del quarto anno proprio su piero della francesca insomma entrare nei luoghi dove lui ha veramente fatto delle cose straordinarie beh queste sensazioni fanno sì che sei felice di essere vivo e questa è una cosa che vorrei condividere con voi ma anche un bosco emiliano un amico mio mi diceva io l'importante ogni tanto vada nel mio bosco preferito l'altro io basta che vado al mare nell'ora del crepuscolo non serve una specializzazione per essere più bravi o meno bravi ognuno di noi ha delle belle sensazioni ritrova la pace con se stesso potrebbe sembrare quasi una messa solenne che sia chiaro non è così allora laicamente parlando e soprattutto sensazionalmente parlando se vi va di mandarmi nel nella parte del nostro canale dove c'è informazioni quindi l'ultima scritta del mio canale entrate sotto c'è un email che uso per contatti commerciali naturalmente non vi metto lì non mi metto a rispondere non mi scrivete lì ma attraverso il piccolo soft torino che vi faccio vedere adesso che vi consiglio comunque di tenerlo sempre a portare in mano perché nella vita è comodissimo e gratuito mandatemi non so due tre minuti un video anche girato col telefonino che vi si veda chi siete questo è già una cosa bella a me mi vedete sempre così io vedo un po voi e se vi va mi fate vedere il luogo che preferite quando fotografate oppure ci montate sopra me le mandate a me le monto io qualche immagine qualche fotografia di quel luogo di cui state parlando quindi metteteci la faccia questa cosa è divertente e ci conosciamo anche fisicamente se questa cosa funziona io di tanto in tanto faccio proprio una puntata con due tre nostri iscritti ma anche non iscritti ok quindi questa cosa è aperta a tutti ovviamente da voi iscritti aspetto che vi mettiate un po in gioco io vi ringrazio vi saluto sto preparando una serie di cose ma insomma poi tra l'altro non so se si sente ancora la mia voce un po fasulla perché ad arezzo ho preso una bella freddata e insomma sono stato una settimana almeno insomma tra tosse e raffreddore era impensabile poter registrare allora naturalmente ognuno di noi come dicevamo a questo posto magico io ammetto che ne ho più di uno ma negli ultimi anni ho scoperto veramente un posto veramente tra l'altro a piuttosto vicino a casa mia insomma a roma quindi 80 chilometri da qui ed è la nuvola di fucsas che è un palazzo dei congressi un centro congressi in realtà ha una struttura che a me ogni volta affascina non ci posso andare sempre perché non è aperta al pubblico ma ci sono delle manifestazioni durante l'anno come più libri più liberi dove ci sono moltissime piccole case editrici che si radurano ed io approfitto intanto di andare a vedere e comprare qualche libro che fa sempre bene al cuore e alla testa e di più mi porto sempre una piccola macchina giocattolo poi mi pento ogni anno ma comunque vorrei fare più qualità in realtà poi non è possibile andare con lo zaino con più corpi obiettivi pesanti vado sempre con altre persone quindi non mi va di rompere le scatole agli altri ma sto lì praticamente una giornata e quella quel posto che per me è magnetico ha creato negli anni qualche anno fa prima del lockdown e poi adesso ci sono stato alla fine di dicembre una sensazione un'attrazione non lo so intanto mi fa sentire così piccolo mi fa sentire veramente un granello di sabbia e io spesso li riesco a raccontare delle geometrie che piacciono molto ma soprattutto in quelle manifestazioni c'è sempre tanta gente quindi architettura persone movimenti di persone questa è una cosa che a me diverte e ogni volta dico ma è freddo ma mi sa che quest'anno non ci vado invece vado perché è più forte di me naturalmente è importante due cose la compagnia giusta la mia compagnia è perfetta l'avete già vista in tanti video che passa anche chiaro di me è una compagnia che fotografa anche lei e quindi per passione e quindi non ho questa sensazione di qualcuno che mi sta sempre ad aspettare se io mi fermo un attimo quindi sono libero di essere tranquillo rilassato e lì riesco non dico a creare immagini chissà di che tipo ma sto bene con me stesso anche con gli altri naturalmente ma lì dentro trovo una energia che spesso non ho dal punto di vista fotografico e quindi sto tutto il giorno a camminare a salire scale a guardare libri a raccontare pezzetti di video e questa è una sensazione meravigliosa io auguro a tutti quelli che non sono di Roma soprattutto che possano vederla una volta ed entrare e capire la sensazione che io sto cercando di mandarvi è un posto veramente magico poi nel tempo magari ve ne farò vedere altri come raccontavo poco fa della sensazione di Arezzo che è stata molto bella ma io sono legato a molte città un po' perché ho degli amici un po' perché alcune parti d'Italia sono legato sentimentalmente per altri motivi personali parenti, amici, amici, cugini e comunque i posti nuovi mi affascinano sempre naturalmente la nuvola è un posto anomalo rispetto ai miei modi di vivere e di vedere la fotografia ma le sue architetture e la folla che attraversa queste manifestazioni mi aggancia, mi trascina e io non riesco a non poter far qualche scatto allora questa è la sensazione che vorrei trasmettere e vorrei anche che mi trasmettiate voi e vado in un minuto a raccontarvi quello che mi piacerebbe mi mandate questo filmato dove vi presentate in poche parole chi siete, quanti anni avete, dove vivete a me per esempio una cosa che piace molto è sapere i miei iscritti di dove sono quindi in realtà magari anche diverse, lontane da me o magari talmente vicine che non ce ne siamo accorti e quindi mi piacerebbe che voi vi presentaste in qualche attimo come se fosse un'intervista ma ve la fate da soli e mi fate vedere attraverso le foto o attraverso lo stesso vostro telefonino o chi ha una macchina performante che gira video va bene mi raccomando vi chiedo solo Full HD non mi mandate 4K che diventa tutto più complicato mi mandate un telefonino ecco l'immagine del telefonino va bene ma anche di una videocamera in Full HD io monterò ogni puntata qualche cosa cercate di stare vicino, lo dico per chi non è pratico di stare vicino al microfono in maniera che non ci sia caos intorno che non si capisca bene quello che dite e sarei felicissimo di vedervi in viso e soprattutto di capire i posti che per voi fanno veramente la sensazione di libertà e di creatività quindi questi posti per voi magici torneremo poi dalla prossima settimana ad essere più produttivi ma questa è una preparazione di un format che secondo me potrebbe essere molto ma molto carino io vi ringrazio e vi lascio alla registrazione di come potete mandarmi con estrema facilità attraverso questo piccolo software i primi 2 giga non più di 2 giga ovviamente se avete più cose me le mandate in due mail ci vediamo sul mio computer allora amici questo è il softwareino che si chiama smash lo trovate scrivendo smash facilmente su google come vedete qui vi invita a cliccare e cliccando io posso caricare una qualsiasi cosa come vedete in questo momento che ne so carico questa foto voi caricate un video con le vostre foto eccetera come volete voi se non le sapete montare le monto io volentieri me le mandate sia il video che le immagini non è un problema full hd mi raccomando ricordate entro i due file i due giga se no dovete mandarmi due mail come vedete qui mettete la tua mail cioè la vostra e qui invece metteremo la mia che è quella di contatto vediamo ve la scrivo così eccoci qua chinoki con le k punto foto chiocciola gmail punto com ok quindi questa è quella che dovrete mettere per mandarmela naturalmente è tutto minuscolo qui infilate la vostra l'oggetto magari video delle sensazioni e qui se volete scrivere due righe per avvertirmi di qualcosa potete farlo dopodiché cliccate e in pochi attimi a me arriverà le mail va bene ci vediamo la prossima settimana ciao 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 ciao